essere molto rapido nel close out come si dice nell'andare a togliere luce ai tiratori da tre punti rispetto a quello che può fare bilan qui attacca benissimo ma ancora meglio con il taglio dal lato debole la palleggia barnella attacca si chiude il palleggio e fuori da spessu arriva al piccherola forrai ora il cambio poi williams se ne va troppo presto spessu aveva appena tirato da lì libero si mette proprio contro tilman lo attacca lo scarico senders gentile prova a resistere senders penetra trova forrai è un grande tiro quello costruito dall'aquila barnella usare il fisico contro morgan che resiste barnella però è bravo trovando equilibrio al momento del rilascio tempo per prendere tirare ben giuse adattissimo alla situazione che canestro 5 50 morgan piedi a posto grande parabola tripla bersaglio braun prova a far correre i suoi e la palla nell'angolo e per forrai comoda la tripla il capitano di trento massimo vantaggio di serata 39 a 29 70 secondi alla fine parte spessu nell'angolo ben giusta tre eccolo ancora lui questi sono i dettagli che fa la differenza senders con la ruota clamorosa per il più 13 gentile spessu da guarda in uscita al blocco di pila torna da ben giusti dentro da pila ecco il pallone eccoli servizi per il centro provato invece attacca spessu quel pic roll ben giusti cambia c'è mei con spessu scarico braun finta la salì gentile tripla effettivo in cui si concretizzava la palla persa ma immagino la faccia williams prova con la virata a prendere vantaggio contro bilan se non altro lo sposta i gentili chiude il palleggio forrai vicino alla fine bilan riceve spazio per ben giusti grande finta tripla bersaglio non può sbagliare letteralmente parte senders fuori per brown c'è dei vecchi davanti nella zona del banco di sardegna con il canestro e fallo trovato da kelvin martin williams non è semplice allora si va da ben giusti poi farnella stavolta lo ha perso senders attacca barnella alla fine resta libero dei vecchi che spara e segna ancora anche perché è arrivato senders a dare manforte mai vede williams lopesca consolida la posizione con un palleggio barnell fuori dei vecchi di tocco molto bene per spesso che parte poi il palleggio e deve riscaricare per dei vecchi la finta morgan e lì dei vecchi allora va attaccare l'area per l'aquila che è sempre prima di mezzanotte il pascolo da tre e alla fine senders a sparare un'altra tripla ferro ripasso di dei vecchi che apre per barnell che prova a spingere 3 10 buona palla il man il famoso gesto barbaro termina la partita la via leva arena la dolomita energia vince 92 a 70 sono nato qui appartengo a questa terra a questo mare sono la mia ispirazione la mia creatività samarigosa il meglio della tua terra prestiti personali banco di sardegna sogna in grande prestito promo rata mensile 97 euro virgola 63 9 mila euro in 120 mesi tan 5 49 per cento taeg 6 e 31 per cento banco di sardegna gruppo b per